sono in trappola di Capcom che stress sono in asina sono in trappola di Capcom che non crea la porta quella dopo dalla salita vedi che pizzo contenitore di biorisco individuato raggiungetelo ricarica ero dietro un muro di 6 km e mezzo adesso guardo come va preso è in bagno quello dietro ad asilo nido chiuma attento è alla destra è nella stanza in cui sei tu a destra dietro il bancone c'è Caveira invece dei videogiochi ti sta pushando no sta andando via corridoio si è droppato in ingresso principale sta salendo dalle scale sta arrivando l'altro a sinistra non lo vedo e l'ho sentito basta guarda un po' che taglio tiro a topo che cazzo è solo di pressione in atto ricarico compretemi compretemi le spalle no 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 che ha sceso di no difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti che buono tutto meglio vabbè di cavo fatti un anno di fps con la vibrazione poi vedi quanto cazzo tutti i giochi che ho giocato ho sempre giocato con la vibrazione eh lo so anch'io io la prima volta che l'ho tolta era su mv3 qualche anno il campione italiano di di remo6 su xbox eh te lo dico io te lo dico io che sono forte su tutti gli fps di questo pianeta dal 90 ad oggi e la vibrazione effettivamente ti toglie un po' di smiro no no vabbè ma lo sapevo da un bel po' ma questi droni qua ma cosa stanno facendo e non siamo a 5 secondi barricata apiazzata dispositivo in campo nega manco una barricata dentro non ne ho individuato il contenitore di mio oricchio dispositivo non l'avete aperto lì no presso fiori No, l'ho fatto saltare con la sua Claymore almeno No, ma com'è possibile Uno sale da scale stregate Cioè dalle scale di ufficio E da Jekyll Quindi chi è un attento da Trenit arriva Jekyll No, c'è anche Ash Ho io la telecamera sopra di te Nico non morire per nessun motivo Non farti piccare, stai dentro Jumo, sto pushando Ash da te Proteggete il contenitore di biorischio Nell'angolo a sinistra Il contenitore di biorischio Sì è vero Infatti te lo stavo per dire Comunque col silenziatore è molto più E' buono però devo essere preciso Se non c'è un bel cazzo C'è lì era terra, era morto Non pagare il profilo di malafone Non c'ho accessoriato tutti questi operatori Non è nata Ma quanti soldi c'è a speso Ma per questo gioco Dovete trovare il contenitore di biorischio 150 Ah ti ho fatto due season pass Capcam monta le mine Due season pass Gli operatori elite Ma c'è stata Alla fine Sì vabbè l'elite sono un po' Un buttar via dei soldi Però ci sta No ma non è quello Ma ci stanno gli elite Però 10 secondi all'inserimento Ci sta se ti prendi il tuo elite Che è magari il tuo main 10 secondi all'inserimento E qui dove sto dicendo io Secondo me ho tradesso Cosa è forte Contenitore di biorischio individuato Raggiungetelo Ti piace Ti piace Io che arrivo spesso primo Io che dovrei prendere l'elite Non hai? Piano raga Ci stanno tenendo a procedimento No dai non è possibile A parte che l'alleato Non ha piccato Poi dio calmi i colpi No raga Non si è accecato Gli ha spavolto Non è accecato davanti Il drone di eco E' in caffè È sopra video giochi Credo Certo Un'altra ruota Cosa? Un'e-main No Ecco dicevo Attento sta venendo il drone di eco dietro di techium Drone di eco Ok no Ha preso di nuovo i bada Ecco sarà dentro per l'entere trappolo GG clic clac 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 se ne parte fai pezzasù io più la mando avrò più giù per salire dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza rinforzi a loro quasi completati il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio dispositivo ok uno in sicurezza il nemico ha individuato il contenitore di biorischio in questo settore in questo settore ho incatato uno si ho rinforzato il muro poi ce l'ho messo il calcio questo si si ce l'ho messo io ma per un motivo preciso in realtà per un copriflank è volevo volevo ah volevo andare vabbè se vuoi togliere lo togli no 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 penso sono lì così devo prendere qua sulla finestra ah ancora hanno spaccato hanno aspettato anche botola attento anche botola ma hanno fre anche da finestra aspetta che esco allora mi piccano anche da treni forse ok Treni? Forza, non so Cosa sveggio? Sì, mi entrano da Treni Messo per terra? Sì Vittoria alla difesa, nemici eliminati Che bella sta kill, ho sparato a sentimento, non l'ho neanche visto Quattro, quattro, dici set Ja, ja, ja Bella luce, bella luce Bella vai chiumo No Ah, io ne faccio un'altra Clicclac, l'altro click Voglio vedere se posso metterli a dietro anche io Non ho mai avuto uno, mi sentirei forte Sì 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 No, io vediamo tutti che Io trovo le mie tiche rare che fanno cagare Tutti gli agger trovano i cibi Ma fammi trovare anche a me, non c'è una porta Sì Jaegger, sì Jaegger con il Ah, sì Ah, sì 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 Vabbè, un attimo che sto mettendo le cose che flexano Flex Il diavolo rosso non si ferma davanti a nesso Flex E mi sentirei male, scioperire troppo C'è troppi soldi sui rendi Non c'è Troppi soldi Eccola che io il gioco l'ho pagato 50€ con la versione Gold Edition Che c'aveva già la season Il mio season pass incluso E nella fine uno ci spende 100€ per il gioco E il season pass io ne ho spesi la metà Un pass completo quindi E ne ho spesi altri season 15 per Frost e Capcom Quello d'oro e quello Nella fine se ne spendono altri 30 ci sta Ma Manfred non ha preso il Blackboard Elite che ti viste E' uno dei più belli Anzi forse il più bello Terma Bello il Termite C'è il Termite Che cosa ha preso oltre al giocare di Sì Il Rook e il Twitch Ah il Twitch Sì Sì è bello il Twitch Ma il Rook Elite fa schifo al cazzo Per me è bellissimo Beh per uno che fa Rook main però ci sta Sì Sì Ma ti pare che con il secondo profilo di Rook Di Rook 34 sono solo 400 punti dal tuo Sì Io 100 punti Oro 3 Con il profilo di Nico la volta che l'ho preso Ero tipo in Argento 3 Poi mi sarei trovato in Oro 4 Non so Sì Sì Ti ho canico quante parti ci abbiamo fatto Io buone con tutti Sì troppe Però io lui insieme Sì non ne perdevamo una Grazie Vabbè ma noi ci divertivamo Non era una sforza Però io Cioè non lo darò mai nessuno Vabbè 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 punti di vista Cioè tipo per qualcuno un punto di vista è Ah Non trovo una partita Invece per me il mio punto di vista è Oh porco Dio che gioco di merda Capisci le differenze Sì 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 Io ora ero indeciso se venderla a play. La play? No. E venderla? Ah venderla o che vuoi prenderla? No venderla a play. Ma per comprati un'altra o per cui non ci giochi più? Qua ci fai amare il tuo cazzo. Ma anche se la faccio più ascio. Purtroppo ci posso prendere anche. Mi raccomando comprati droga con i soldi. Volevo metterli da parte per la mano. GG. Stai una cosa intelligente. Perché tipo a 16 anni mio padre mi ha detto che mi regala la moto. E poi dopo vado quando tipo a 16-17 anni andrò a lavorare. Lavoro a lui in vita. E dopo gliela ripago. Ci sta. Ci sta, ci sta. Trovate la posizione del contenitore di Biorizio. Un buon TM alla fine con... Dipende di che anno lo vuoi prenderselo. Lo vuoi abbastanza nuovo, messo bene, lo trovi tipo da 2013-14 in poi. Però non fai fatica a scendere sotto i 3.500 di spesa. Se no devi andare su. Inserimento tra 5 secondi. Raggiungete la posizione del contenitore di Biorizio. È un blocato per gli scound. È un blocato di... È un blocato di... È un blocato di merda. Un blocato di merda. Un blocato di merda. Un blocato di scound. Un blocato di scound. Un blocato di scound. Un blocato di scound. Anche perché adesso col freddo che c'è tanto non la tiro fuori io stesso. Non so per nemmeno male però ma non piace. No raga, polsi le sono uscito in prefagliere in bocca. e ha 10 di vita oddio nico che smirato spara in WB questo non ha visto troppa di frost ok si l'ha visto troppa di frost ero un auto lo sa troppo che sei qua ciccio secondo te no vabbè che sfiga questa merda è stata è la cosa più brutta di questo la stanza è sostanza la stanza è sostanza il muro è stato rinforzato il muro è stato rinforzato il muro è stato rinforzato mancano 5 secondi proteggete il costitutore di biorischio attuale un ingresso in meno di cui preoccuparsi c'è un ingresso la cittadina ricarico copritemi sono i 4 lì fuori ma che cazzo è ma che cazzo è ma che cazzo è un contenitore di biorischio esiste il nemico di prendere il contenitore cambio caricatore hai notato che non riusciva a tenere il puntatore fermo ma siamo il libero o il classificato? il classificato dai impegniamoci un attimo andrei in ufficio si anche io trovate la posizione del contenitore di biorischio no sono in camera da letto è buona difender sopra ho capito bonnie dobbiamo attaccare sopra e non morire ho capito ancora 10 secondi inserimento tra 5 secondi capito posizione contenitore di biorischio ignota ingaggio autorizzato un'epoca non è non è il nostro non è il nostro è un'epoca per un'epoca non è non è non è non è non è un'epoca Tenitore di biorischio localizzato. Niko, vai l'animale alleato veloce. Ah, ma avete lasciato morire l'alleato? Ah, niente. Dai, rega, svegli però, eh. Chi è, niko, 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 devi guardare con la porta, capito? Guarda con la porta. La porta di corridoio, lì dove stai mirando, mira lì. Eh, no, no, non ci poteva fare niente, ti sparate in wallbang. Ma è normale, quando si spara in wallbang? Ah, ma di can, ci sono due bruchi che rendi conto la casa. Mancano 15 secondi. Eh, nel corridoio è più cipare. Prendete il contenitore di biorischio. GG. Difessori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti. Comunque, Kiumo, hai sentito la spiegazione di come sono morto? No, perché rimutano. Ah, ok. Sono morto per colpa dell'alleato. Praticamente sono stato a coprirti lo sponchino tutto il tempo. Appena sono arrivato giù, tipo stavo correndo per venire a darmi a piccare l'alleato, ho iniziato a sparare verso la porta. Ha distrutto la porta, Jager ha piccato e ha ucciso me. Oddio, Jager, cosa è male? Sì, sì, sì. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Difendite la stanza. Non è nemico, ha individuato il contenitore di biorischio. Muro fortificato! Sì, l'ho dominato tutto. Vuole preparare la mamma? Non mi metto la zampa, Nicolò. 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 Mancano dieci secondi. Giaccio la T.S. Siamo a cinque secondi. Giaccio il filo spinato. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Vilo spinato pronto. Volete farvi la barba? Giaccio la T.S. La porta è stata barricata. La porta è stata barricata. Le grenade ormai non sono più potenti. Detonazione carica. Cambio caricatore. Ce ne sono due lì fuori. Ce ne sono due lì fuori. Chi è il dock? Dock. Ricarico! Dock. le mie piccole tossine sono in posizione preparo il video il codaggio buono è l'ho cittadino libro in posizione un operatore alleato rimasto i difensori hanno eliminato tutti i nemici non per cuore che non ci sentiamo ancora no dai t'ho fatto le call tutto il tempo che palla ti ho dato le call precisamente di come si stava muovendo il blitz fino ad adesso e ti avevo pure dato la call sui cù dove era prima che morisse e avevo pure insultato l'alleato e lo so vecchio ma infatti mi tanto hai detto lì che ci sono morti lì ho battito tutto strano che mi hanno fatto una staccafante cosa sparpe bro ben fatto il contenitore di biorischio è stato individuato 10 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento si io sono ignorato contenitore di biorischio individuato raggiungetelo 5 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento Dai oh vecchio, dai oh vecchio, dai oh vecchio, mister pingui, mi ha ucciso solo lui, voglio morire, chiumo, voglio morire Oh, non è nolto, questo c'è qualcosa da ciò che non muoiono No, c'erano qualcosa di sicuro L'ultimo uomo per la squadra alleata, l'attaccante è stato eliminato Ah, mi stavo in mea marco Oh, bambi, c'è svegliato, però, due, tre, 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 due, tre Andiamo a dormire Ti credo che non c'è Dai, c'è il cemico sopra di te, i trucchi, io can't asvegli Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio No, 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 no Il nemico è in situato il contenitore di biorischio Bella rega Facciamo il check del microfono, mi sentite? Sì, bella Raga, silenzio, che cabbo Fatemi solo call Il muro è in sicurezza Ci ho aperto anche dal corridoio, più mai la bottola chiusa, non so se devi aprire Sì, sì, no, lascialo, lascialo così No Al massimo il barico, se ci stanno tutti stanno No 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 Arrivano da Geisha C'è uno scudo da Geisha C'è uno scudo da Geisha C'è uno scudo da Geisha C'è uno dei percati Capito, invece ti vuoi coberto da Geisha Sì, sì, ce l'ho io Non sta bene, sicuramente Stanno agli alleati, mi rovinano tutto Stanno agli alleati, mi rovinano tutto Stanno agli alleati, mi rovinano tutto Interregazione Dov'è il resto della tua brigata? Non è stato difficile eliminare il tuo collega, però mi sono divertita lo stesso Non ci credo, Mr. Penguin Mr. Penguin Il nemico si sta impossessando le connessioni Intervenite all'istante Troppati chiamo L'hai visto nell'angolo Dai, oh Non muore Non muore Io te lo giuro che boh, ma Mr. Penguin ha ucciso solo lui Guardalo Guardalo Cioè A me one tappava in testa A me one tappava in testa 10-0, vecchio, ho fatto Mr. Penguin Bolo vecchio Vai, raga, io dico che dopo questo 2-6 Possa benissimo Cioè vorrei fare un'altra giusto per... No Buonanotte, raga Buonanotte Buonanotte Mi amore sostanza Chiomo vuoi fare l'ultima io e te? Sono un po' stanco Però si può fare Io no No, però faccio l'ultima P swir jeśli Qua 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 Flexiamo su ogni cosa Questo beat è una rosa Barricate la stanza Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Le granate ormai non sono più Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio PS attivo in posizione Non ho fatto una rosa Siamo a 10 secondi Ancora 5 secondi Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio No, sto spunchilando No, l'ho chiuso in testa Gioco al piccolo carpentiere col muro Non c'è un parola Non c'è un parola Non c'è un parola Non c'è un parola Un'unica star nesta Guarda La stanza La scala piazza messo per terra quello sopra non sto capendo ricarico non so mai vado a botto ho capito adesso dove era l'altro scale rosse perché lo stanno pushando oddio io cazzo era morta che bello se fossi stata io anche e mi rubano ash chissà se sarà bella di occa la piastrina di sta stagione dovete trovare il contenitore di biorischio non so non so non so non so Ben fatto, il contenitore di biorischio è stato individuato, ancora 10 secondi, 5 secondi, contenitore di biorischio individuato, raggiungetelo. Cap cansa droppato giù da garage. Grazie. l'obiettivo è conteso però non capisco chi ci sta dentro andiamo in cucina di casa la lettura cos'è 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 la lettura io sparo sia cavera che banni e te lo dico Ritz flow player ma risposto Mr. Luke barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio il nemico ha individuato il contenitore di biorischio mio dio come ho preso droni di twitch su me sta piangendo quanto può essere stupido il mio alleato mi ha messo per terra che incazzo vecchie smirano come dei maiali vogliono prendere i droni i droni nemico ha individuato il contenitore di biorischio eh levati dal cazzo la merda oh 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 la l'alertio spiazzato il dispositivo oh libero 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 oh 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 qua da gara geno vado io ho preso anche Jacker che era appeso fuori noi siamo dei Platino lui era un Platino 1 io Platino 2 stai scopando sei droppato Skyline sei Skyline c'è lo su Skyline? è un top di Micella ultimo attaccante rimasto in vita l'ultimo Jacker è qua su Skyline è lì dietro il coso? i difensori hanno eliminato tutti i nemici e io c'ho una sfiga e io c'ho una sfiga due volte ah droghe sostanze anzi quando mi sta sfottando invece di venirmi a prendere cosa si sta guardando giù no 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 devo avere quello con la finale pesa devo arrivare prima su un primo i miei amici staranno quale vuoi? mi sleggia? è uguale ce ne hai tutti? io canta cammini termite termite non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo sì perché io sono il secondo possessore sono in cucina ci ho messo dei soldi ci ho messo della fatica io non sono in cucina sono su un cim oddio alla mattina è difficile che mi svegli molto difficile ma sono in museo? è difficile sto parlando con uno che mi sta scrivendo mi ha distrutto da dove? mi stavo aspettando mi stavo aspettando mi stavo aspettando l'ha fatta apposta perché prima l'ho ucciso così guardami un attimo il drone no vabbè dai lision in quell'angolino di merda ho capito vai tra si può fare guarda lision ci sta facendo tutti attività nemica neutralizzate la minaccia lasciate perdere il contenitore e lui muore per dir squadra d'attacco eliminata e vai tra per me si può fare però non so se domani mattina ci sono vecchio io quando mi sveglierò giocherò un po' probabilmente questo boh uno che mi ha schiccio sono diamanti arranchiamo un po' ce lo giuro neutron giorno boh non lo so ma il mattino è quanto presto? lui dice dieci e mezza addirittura un orario ma mandami la richiesta neutron ci mangiamo anzi stia mando io se mi scrivi mi ti chiamo ci mangiamo qualche classificato barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio il rospinato in campo il drone nemico ha trovato il contenitore di più rischio muro rinforzato dispositivo in posizione dispositivo in gioco dispositivo piazzato ancora dieci secondi ancora cinque secondi il drone nemico ha individuato il contenitore di più rischio il drone nemico ha individuato Mi stanno spottando Ma che io sparo in fronte alla gente, la gente non muore Preso termine Ma questo che cazzo ci faceva qua? Dio buono E' praticamente tutto il garage Ah se stai Un angolino Stamperando Che è la moda? Non ci credo L'ultimo attaccante è rimasto in vita Se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà La tua posizione è stata compromessa I difensori hanno eliminato tutti i nemici No, non ho un clan perché non mi interessa Mi piacerebbe formarsi un clan ma non so Non è Cioè non ho più che altro tutto il tempo e la voglia di dedicare Cioè sono uno che gioca quando c'ha voglia E basta Quindi anche per quello non è Non è il clan Ma in primo o poi questo profilo qua a Manfred Lo faremo arrivare a un po' latino Di un clan diamante seul Beccato che cool il tuttore un字 .. ma friggolo rotto ok da basta oh shit spazio stas per mosto pacco e vado a letto niente no ma che mio primo profilo è tipo il sesto profilo no a questo qua profilo di mafo il mio primo profilo è in platino il secondo profilo è in oro 1 il terzo profilo è in oro 1 non li uso però gioco soprattutto col primo e ogni tanto uso questo quello di qualche mio amico un po' arancato basso per andare a cazzeggiare a questi orari tipo quando siamo in due così uso un po' questo si tranquillo uso questi invece che il mio secondo profilo perché da lui a tutti gli operatori quindi non me ne faccio di niente vabbè Gio io vado adesso ti scrivo in stream come si chiamano i profili così me li aggiungi aspetta dove c'è c'è qua si chiamano i profili si chiamano i profili si vecchio ti do una mano tu adesso in che rank sei quello che ti ho appena scritto in chat è il mio primo profilo quell'altro che ti sto mandando bonnie xdvr è il secondo profilo poi aggiungi questo qua che è maffre così ma no ma non servono con gli arame vecchi usiamo al massimo uso questo che in argentone va benissimo e poi se no uso anche il primo non cambia niente fidati tu vieni a giocare con noi che ci divertiamo e vinciamo domani giochiamo con maffre soncio che sono altri due miei amici che sono rankati un po' più bassi e poi vediamo come va domani mattina vecchio io provo a svegliarmi è difficile che mi svegli prima delle 11 di solito però nel caso ci troviamo domani mattina se no nel pomeriggio o comunque per pranzo o comunque la sera prima o poi mi ci trovi bella bella dai rega buonanotte lascio un attimo qui mentre mi accendo la sigaretta così vedo se scrivete e poi stacco bella rega buonanotte bella 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 Grazie a tutti.